Sei sicuro di essere pronto? Perché se cominci non potrai tornare indietro. Sarai il mio maestro di karate? No. Sarò il tuo sensei. Ti insegnerò lo stile di karate che è stato insegnato a me. Un modo di combattere che serve alla tua generazione di fighetti. Buona fortuna. È tutto suo. Grazie. Non ti insegnerò solo come affrontare le tue paure. Ti insegnerò come risvegliare il serpente che è in te. E quando ci riuscirai, sarai tu l'uomo da temere. Ti fortificherai. Imparerai la disciplina. E quando sarà il momento... colpirai.